I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, di Castello di Cisterni e di finanzieri del gruppo di Giuliano in campagna hanno eseguito con il contributo delle rispettive conomplimenti aeree un'ordinanza di custodia catelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta dei magistrati della locale direzione distruttuale antimafia nei confronti di 19 persone di cui tre già detenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazioni di tipo mafioso, estorsione, violazione alla normativa sulle armi e sugli stupefacenti e tentato omicidio. Le indagini hanno consentito di documentare in Villa Ricca la perdurante operatività del clan Ferrara Cacciapuoti storicamente rientrante nel cartello camorristico denominato Nuova Famiglia, collegato all'alla corlionese dell'associazione di tipo mafiosa denominata Cosa Nostra e militarmente contrapposta a quello denominato Nuova Camorra Organizzata. Ricostruire la struttura del clan stabilmente articolata in due distinti gruppi, l'uno facente capo alla famiglia Ferrara e l'altro a quella Cacciapuoti. Individuare in quella dei Ferrara la Francia a vocazione spiccatamente imprenditoriale, confermare lo stabile interesse della criminalità organizzata verso il settore degli idrocarburi, accettare che il clan ha inteso preservare il territorio d'attività ed attenzione delle forze di polizia attraverso l'imposizione di un divieto di spaccio a Villa Ricca, acclarare nuova ipotesi estorsiva in prevalenza al danno di imprenditori operanti nel settore dell'edilizia, di titolare di palestre e di sale giochi, riscontrare il coinvolgimento dei vertici del clan della natitanza di C.E., capo dell'anonimo clan che, unitamente a quelli denominati Liciardi e Mallardo, rientrano il cartello camorristico denominato Alleanza di Secondigliano e si contrappone a quella di Mazzarella. Acquisire elementi in ordine del tentato omicidio commesso da esponente del gruppo Mauriello, articolazione legata ai Ferrara, in danno di esponente dei Cacciapuoti. Contestualmente sarà data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza avente all'oggetto società operanti nel settore immobiliare edile degli idrocarburi della caffetteria e della ristorazione, nonché della ventità di genere alimentari emessa nei confronti degli esponenti di vertice della frangia Ferrara, perché costituite reimpiegando gli ingenti proventi dell'attività del sudalizio mafioso.